Se sei un vero tifoso dell'Inter, devi conoscere questa notizia bomba che promette di smuovere il calciomercato. Innanzitutto voglio invitarvi ad iscrivervi al nostro canale per ricevere in prima persona tutte le notizie e le notizie sulla nostra amata Inter, ti garantisco che non vorrai perderti nessun dettaglio di questa emozionante storia. Veniamo ora all'argomento che sta lasciando in subuglio i tifosi dell'Inter, l'Inter ha bisogno di un altro centrocampista per rinforzare ulteriormente la sua poderosa rosa. E sai quale nome bolle nelle conversazioni? Roberto Pareira, il giocatore che non è mai stato dimenticato e che finalmente può vestire la maglia nerazzurra. Pareira, che ha recentemente lasciato l'Udinese, ha suscitato l'interesse dell'Inter e la trattativa è in pieno svolgimento. E guarda, i valori stanno salendo insieme alle nostre aspettative. Secondo le informazioni di Sky Sport, il prezzo del talentuoso argentino è direttamente proporzionale al fervente desiderio dei nerazzurri di averlo nel nostro centrocampo. E la parte migliore? Questo trasferimento può essere fatto senza alcun costo per l'Inter. Lascia un like per rimanere aggiornato sulle novità. E c'è un'altra cosa che vi rende ancora più entusiasti. Lo stipendio di Pareira è del tutto alla portata dell'Inter, si aggira intorno ai 2 milioni, o anche meno. Esatto ragazzi, stiamo parlando di un'occasione imperdibile per rafforzare ulteriormente la nostra squadra e puntare a grandi titoli. Finora la pista di Pareira non è stata affatto esclusa dal sito di Viale della Liberazione. Questo aumenta solo le nostre speranze e fa vibrare la folla sempre più in alto. Ora tocca a te, appassionato tifoso dell'Inter. Vogliamo sentire i vostri pensieri su questa notizia esplosiva. Comenta qui sotto e condividi con noi la tua emozione alla possibilità di vedere Roberto Pareira difendere i colori del nostro club. Insieme, rendiamo l'Inter ancora più forte e imbattibile. Forza Inter!